buongiorno ragazze come state oddio ci sono i riflessi delle luce benvenuti in un nuovo vlog io sono vittoria gervasi mi trovate su instagram con lo stesso nickname sembra notte ma non lo è sono semplicemente parcheggiate in un parcheggio sotterraneo oggi vi porto con me a fare la spesa di frutta e verdura ok forse così va meglio al mercato di porta palazzo di torino che è un mercato che io adoro parecchio distante da casa mia però fattibile teoricamente credo che sia il mercato più grande che c'è qua torino e appare anche più conveniente sicuramente c'è una grandissima varietà di frutta e quant'altro e quindi niente a me ogni tanto piace venire per scovare magari anche frutta esotica o comunque insomma frutta buona c'è anche tutta la sezione dei contadini e niente quindi sono qua con mia mamma mia mamma già scesa che è andata a prendersi il caffè intanto detto vabbè faccio l'introduzione del vlog poi ti raggiungo e basta in realtà non ho in programma di comprare tantissime cose perché non mi voglio appesantire troppo ma prima cosa che ho fatto è parcheggiare nel parcheggio sotterraneo che è la via più veloce sia perché poi non si sa mai quanto si rimane e poi perché rimane molto comodo rispetto appunto al mercato quindi niente andiamo e appunto non so che cosa comprare sicuramente vorrei trovare i lamponi per cesare perché ne va pazzo e qualcosa dei contadini sicuramente la zucca vorrei già prendere quella cubetti tagliata e poi vediamo cosa troviamo insomma vi porto con noi giusto per farvi capire questo è il parcheggio dove io parcheggio di solito nel sotterraneo e il mercato è praticamente lì in fondo a sinistra una volta invece parcheggiavo fuori ma parte che alla fine forse costa addirittura di più e poi tutte le volte non mi regolavo col tempo infatti un paio di volte ho preso anche la multa e alla fine risultava sempre più lontano piccola curiosità quello che ha lì frivolo questo qua è quello dove ho conosciuto mio marito o meglio dove i nostri amici ci hanno presentato una sera del 24 aprile 23 aprile mi ricordo bene 24 avrebbe essere aprile del 2013 quando vengo al mercato ovviamente mi vesto sempre male tra virgolette quindi no borse firmate no loghi no troppi gioielli in evidenza infatti ho tolto tutto la fede ma in generale ai mercati in generale comunque andiamo da questa parte praticamente c'è tutta la parte di abbigliamento avete esempio qua tutto 5 euro andiamo a vedere se c'è qualcosa di interessante andiamo a vedere se c'è qualcosa di interessante quella è la parte al coperto dove ci sono macellerie panetterie e là dietro invece ci sono i contadini quindi adesso ho fatto un giretto ho trovato un banco a cava delle cose per bambini piccoli ho preso tutte cose per la bimba di una mia amica dopo ve le faccio vedere e adesso entriamo qua dentro siamo nella parte dei contadini che si vede ed è la parte che io preferisco inserata tante cose buone vediamo cosa comprare sicuramente la zucca pezzi purtroppo la zucca pezzi non l'ho trovata dai contadini ma non ce n'erano tantissimi oggi però ho comprato gli spinacini buonissimi e le zucchine e adesso quindi vado nella parte di verdura classica vediamo cosa troviamo nel frattempo ho perso mia mamma che è andata ad un banco e non la trovo più ok mi sono anche comprata il carrellino molto felice questi qua a tre ruote 20 euro ne voleva 25 ma sono riuscita a far me la dare a 20 molto contenta così mi sono entratta la mia spesa purtroppo la zucca allora ragazzi sono arrivata a casa tra l'altro troppo felice troppo felice del mio carrellino perché appunto normalmente me lo faccio sempre per stare la mia mamma ma poi certe volte mi dimentico di chiederglielo insomma tipo su mattina adesso l'ho dimenticata quindi ho detto ok me lo compro e super contenta di averlo trovato così stabile adesso poi ve lo faccio vedere ad un prezzo ottimo perché anche mia mamma ha detto che ho fatto un grande affare vi faccio vedere scusate ancora una tossica decente gli acquisti che ho fatto allora per 2 euro anche se erano un po' carucci ma era l'unico banco che li aveva ho comprato i lamponi a Cesare arrivano da Rivalta provincia di... ah no origine di Marocco vabbè 125 grammi di lamponi 2 euro non è pochissimo anzi però tanto per me è facile di pago il tuo lui lo faccio per i lamponi e quindi lui lo ho presi insomma vabbè pazienza quindi scatolina di lamponi 2 euro poi ho comprato a mio marito un mango perché a lui piace tanto c'erano questi qua che sono quelli per via aerea che insomma normalmente sono i più buoni e sono i più cari un euro quindi un euro poi ho preso un chilo di kiwi questi qua piccolini gialli perché a me piacciono molto i kiwi e niente se ne metterò perché è strutto questo pacchetto me ne tengo qualcuno fuori mi piacciono anche molto a Cesare fanno bene sono fini di vitamine mi tengo quelli un po' più maturi fuori e così sono piccolini me ne mangio già 2-3 oggi e gli altri invece li li metto in frigo ok poi ho fatto patate dolci mi piacciono moltissimo ne ho prese 3 queste rimano 2 euro al chilo ed erano solo le patate dopo vedo come sistemarle poi ho preso a Cesare un panino semi dolce che per intenderci sono questi qua a lui piacciono moltissimo quindi glielo ho presi vedremo se farà merenda oppure se ci farà merenda oppure se ci farà insomma la mangiare a cena poi dal mio contadino di fiducia ho preso non so quanti siano ma questi spinaci che sono la fine del mondo infatti adesso me li lavo per bene perché ovviamente sono un po' terrosi e poi me li faccio direttamente in padella quindi proprio in padella 5-10 minuti sono spettacolari e poi ho preso le zucchine che eravano proprio belle e in totale qua ho speso 3 euro mi ha detto come ho fatto 2 euro di zucchine e 1 euro di spinaci quindi non ho visto dire quanto questo era il chilo poi avevo sete guardate la mia sete ma che poi mi sono dimenticata di berla mi sono pesa mezzo litro d'acqua 30 centesimi poi ho comprato il pollo in un banco cioè in una macelleria che aveva proprio le cose della coalbi che sono proprio la razza fiamontese e l'ho pagata 12,50 al chilo 9 euro e sono è proprio il il petto di pollo quello giallo non so se avete presente ma per me è il mio preferito e mi basta perché proprio qua c'era la mia borsa che mi ha portata pensalmente questa qua bellissima di questo marco francese che si chiama Le Petite Chocheterie Paris di Nuage Empoli andate a vedere l'ordine l'ospetto bellissimo e poi appunto ho preso per questa mia amica due cosine troppo carine perché avevano questo banco che aveva le marche cioè le cose di questo marco Sergio 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 Maier ed era tutto 3 euro al pezzo quindi le ho preso questo a magliettina troppo carina righe con il insomma il cagnolino di Londra e poi e questa era apprezzata a 15,99 e poi questo che era troppo bello troppo 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 stupendo questo giverino guardate anche dentro come tutto rifinito sempre 3 euro ed era questo era apprezzato 17,99 troppo carino volevo farli in realtà al completo perché avevo trovato una magliettina che era sul verde ma era più grande erano 12 mesi e insomma non andava bene però anche questo completino secondo me è molto carino va bene ho detto che debba abbinarlo per forza così però guardate che bellino mi è piaciuto molto e basta quindi adesso vado a sistemare il tutto e poi mi preparo gli spinaci perché sto morendo di fame io spero di insomma avervi portato appunto in una zona di Torino che magari non conoscete quindi se passate a Torino anche solo se siete di passaggio per turismo passate al mercato di Porta Palazzo perché comunque è molto folkloristico noi ci vediamo con il prossimo video un bacio ciao